E adesso torniamo a parlarvi di uomini e donne, ma questa volta del Trono Over e lo facciamo con Sossio Aruta e Ursula Bennardo del Trono Over. Insomma è proprio il caso di dire sì loro ce l'hanno veramente fatta. Insomma vi dico la verità io puntavo di più sulla coppia Riccardo Guarnieri e Ida Platano, ma sembra che loro si prenderanno ancora un'estate di tempo. Insomma a settembre sapremo tutto di loro. Mentre invece Sossio Aruta e Ursula Bennardo vi ripeto mi hanno veramente sorpreso e ovviamente sto parlando in positivo. In primis perché hanno deciso di abbandonare la trasmissione insieme, al contrario di tanti altri che invece sembra che preferiscano stare a fare altro in televisione, ma poi perché sono andati a convivere e ormai lo fanno da circa cinque mesi, e ovviamente perché hanno avuto il coraggio di scommettere sul loro amore mettendo al mondo una creatura. Sossio Aruta e Ursula Bennardo genitori a novembre. Sossio Aruta e Ursula Bennardo a cinque mesi dalla nascita della figlia bianca. Ovviamente la nascita della piccola avverà a novembre se non abbiamo sbagliato a fare i calcoli. sappiamo appunto che sarà una femminuccia e ha già un nome si chiamerà infatti bianca. Ma anche sui social sono veramente tutto un proliferare di affetto e complimenti con affettuosità che entrambi si scambiano. Io su Ursula dalla prima volta che l'ho vista non ho mai avuto dubbi. Sono sincera che Sossio crollasse ai suoi piedi in questa maniera, non me lo sarei mai e mai immaginata. E voi?